Amici di Breaking Pop oggi parliamo di una serie televisiva arrivata in Italia sul finire degli anni 80 e inizio anni 90 che ha fatto commuovere non solo qui ma in tutto il mondo milioni di fan stiamo parlando di quello che la wikipedia definisce un comedy drama dal titolo Wonder Years da noi meglio noto come Blue Jeans e allora guardate che cosa raccoglie l'edizione limited edition proprio per il mercato americano purtroppo ma che possiamo comunque trovare su amazon e ebay se siete fan della serie a partire da questo stupendo armadietto scolastico che è poi quello del protagonista Kevin Arnold quindi proprio l'armadiettino sportivo che si apre e contiene due box dei dvd nella fattispecie prima seconda terza stagione quarta quinta e sesta ve ne tiro fuori uno per farvelo vedere all'interno ci sono i dvd messi come se fossero dei piccoli 45 giri eccoli qua con lo sfondo un po scrapbooking style i fogli protocolli che ricordano pienamente quelli che sono dell'istituto scolastico inoltre all'interno è sempre possibile trovare questo libricino che contiene firme autografi dediche e soprattutto foto e curiosità di tutto il cast delle varie serie e la cosa curiosa è che questo libricino riprende effettivamente quello di un annuario scolastico ma non è finita perché ovviamente potete personalizzare il vostro armadietto con questi simpatici magneti guardate che carini poi voi li mettete come vi pare il tutto viene fornito insieme all'indispensabile borsa scolastica c'era la borsa con cui i ragazzi facevano sport all'istituto che contiene attenzione le calze anche queste brandizzate ovviamente la toppa eccola qui il cagliardetto per fare il tifo sempre con la nostra lince i wild cats e per finire la maglietta che è ancora sigillata però insomma giusto per farvi vedere eccola vedete sì perfetto ma non è finita perché siamo ovviamente negli anni 80 e che cosa c'è più di 80s che avere delle spille eccole qua le spille della serie wonder years con i nomi dei protagonisti e chiaramente il simbolo vincente insomma ragazzi se siete fan di blue jeans wonder years questa serie non può assolutamente mancare nella vostra collezione